questo è un luogo di serenità questo non è una casa di riposo io vado via dove vuoi andare alla nostra vita? non dirla a nessuno c'è un gruppo di vecchiti divertentissimi veramente un bel posto eh? la gente è molto ospitale se finta di non vederli andiamo forza ma abbiamo lasciato il non a casa per sederci accanto a questi vecchi sono venuti qua per cercare il fidanzato di uno di loro che non vedi da più di vent'anni benvenuti è terribile quello ti fa sparire in un attimo hai a me? a te sì vabbè a te ci metti un po' di più tu sarai mio c'è segreto tu non tira nessuno questo drago lì, drago il dirmo chi è? non lo conoscevano tu ti accompagni gente pericolosa questi sono pericolosi ma chi? sono armati oh dio questa situazione va risolta lepare! mi chiamai sola Joe qualche puttana torri che quelli sparano ma torri dove? oi! io! ho 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 Ehi!